Musica Benvenuti al consueto appuntamento con sette giorni di cronaca. Il Molise deve chiudere, il Molise deve accorparsi a quella o quell'altra regione o scomparire, il Molise non esiste. E' questo ormai il ritornello che risuona ogni minima occasione di fronte a ogni piccolo o grande problema. Ma con queste premesse siamo noi stessi a impedire al Molise di decollare. Sentiamo in proposito l'editoriale del nostro direttore Emanuela Petescia. È un fatalismo atavico quello che spinge i molisani a sentirsi una specie di popolo di serie B, pronto a puntare il dito su ciò che non abbiamo e per ironia della sorte anche su ciò che abbiamo, ma che secondo curiosi ragionamenti pseudo-filosofici non meritiamo. È un bicchiere costantemente mezzo vuoto, ma in molti casi si tende a criticare o a distruggere anche la parte mezza piena. Siamo stati capaci di tirare le pietre perfino al colosso della moda ITR, che reggeva, e da solo, l'economia di mezza regione. Poi, quando è crollato, si sono piante lacrime amare per le migliaia di posti di lavoro perduti. E così è stato per la gamma di Boiano o per lo zuccherificio del Molise. Un disfattismo tutto nostro, insomma, che impedisce di apprezzare le reali qualità di questa regione e le sue immense prospettive. Qualità e prospettive di questa regione che si sono realizzate, ad esempio, nel campo della sanità privata, con istituti di ricerca e fondazioni come il Neuromed o i Gemelli, stabili punti di riferimento nel panorama sanitario nazionale. Eppure, si tenta con ogni mezzo di forzarne la contrapposizione con la sanità pubblica e imporre una scelta. Quando invece l'unica scelta sensata sarebbe quella di integrare il pubblico con il privato, pretendere una quota più alta dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale e garantire così anche ai cittadini molisani le migliori cure e il diritto costituzionale alla salute. Un diritto che non conosce clausole di sorta calcolate sul numero degli abitanti. A star dietro a questo disfattismo generale del resto non meritavamo nemmeno l'Università del Molise e meno che mai la Facoltà di Medicina. Come se le conquiste di civiltà e democrazia fossero riservate alle sole regioni ricche e popolose, restando nella metafora un complesso di inferiorità collettivo che forse spiega anche le recenti disavventure del campo basso calcio. A Novera anche oggi la nostra regione invece e malgrado tutto autentici giganti industriali come la Molisana o la DR Automobili, fiori all'occhiello di questa piccola realtà e della sua riconosciuta vocazione imprenditoriale. Per non parlare dei vini, della tradizione dolciaria, olearia o lattiero casearia, una miriade di imprese disseminate su tutto il territorio e che portano alto il nome del Molise. Anche il turismo è in forte crescita. C'è Termoli in prima linea, ormai affermato polo attrattivo del settore, ma è la costa adriatica nel suo insieme a registrare ogni anno altissimi numeri di presenze. Così come inizia a far registrare incrementi anche un turismo alternativo, forse ancora di nicchia, quello che riscopre i nostri piccoli paesi, i borghi, come si dice adesso, che conservano il fascino antico della quiete e dei silenzi, con le rocche, i palazzi, i castelli, le vie ricamate nei centri storici. Ma non basta un servizio televisivo per esaltare con amore quante cose belle vanta il Molise. Dai misteri di Campobasso alle stazioni sciistiche di Campitello e Capracotta, dai siti archeologici di Sepino e Pietrabbondante al Museo Paleolitico di Isernia, dalle campane all'Andocciata di Agnone, passando per le vie della transumanza di Frosolone, le coltellerie, i merletti festival, le mostre, le manifestazioni culturali, il folklore, l'ambiente, le oasi naturali. Cose belle, sì, che meritano di essere valorizzate, applaudite, potenziate, rilanciate. Il Molise ha tutte le carte in regola, non solo per continuare a esistere, ma per trovare la sua giusta dimensione, proporsi e proiettarsi in un futuro migliore, se solo cadesse quel velo di rassegnazione e scetticismo che le impedisce di spiccare il volo e si tornasse a lavorare sulle idee e a rimettere insieme i talenti, le professionalità, le competenze. Abbracciamola questa nostra terra, perché merita molto di più. Bézame, bézame molto. Bézame, bézame molto. Bézame, bézame molto. Il governo impugna la legge regionale di riordino della rete ospedaliera e che traccia le linee guida in materia di sanità. Violati sostiene Palazzo Chigi gli articoli 117 e 120 della Costituzione chiesta al ministro Speranza la sospensione della legge e l'esercizio dei poteri sostitutivi del governo sul Consiglio regionale. Primo firmatario della legge votata dalle opposizioni, l'ex governatore Michele Iorio. Sentiamo Pasquale Di Bello. Il governo Draghi, su proposta del ministro della Salute Speranza, ha impugnato la legge regionale che riorganizza la rete ospedaliera molisana e traccia le linee guida in materia di sanità. L'antefatto lo scorso 23 giugno, quando in Consiglio regionale la legge venne approvata con i voti delle opposizioni PD e 5 Stelle e con quelli della diaspora di centrodestra che ha nell'ex governatore Michele Iorio il proprio punto di riferimento e sua infatti la prima firma sotto il provvedimento alla quale si sono aggiunte anche quelle dell'assessore Filomena Calenda e della consigliera di Fratelli d'Italia Aida Romagnuolo. Un atto che secondo il governo contrasta con gli articoli 117 e 120 della Costituzione con particolare riferimento ai poteri del commissario ad acta che sarebbero stati ostacolati dall'intervento dell'Assemblea regionale. In presenza di un commissario ad acta, questo il ragionamento del governo, la materia sanitaria è sottratta alla potestà legislativa del Consiglio regionale, specie laddove contrasti con gli obiettivi della gestione commissariale legati al piano di rientro dal deficit sanitario. A sostegno di tale tesi il governo fa riferimento a sentenze della Corte Costituzionale che non ammettono dubbi e che dispongono testuali parole la messa al riparo dei compiti commissariali da ogni interferenza degli organi regionali anche qualora agissero per via legislativa. Il tentativo dichiarato della legge invece era proprio quello di rimettere nelle mani del Consiglio regionale la materia della sanità. Il governo inoltre ha chiesto alla Suprema Corte la sospensiva della legge poiché essa rappresenta il rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini assistiti. In aggiunta, ed è questa la parte più pesante dell'impugnativa, il governo ha concordato sull'opportunità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio regionale. Una sentenza clamorosa e inattesa, quella emessa dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del campo basso calcio contro la decisione del TAR di respingere la richiesta di sospensiva che ha di fatto sancito l'esclusione della società rosso-blu dalla Lega Pro e forse anche dalla Serie D. Ora la decisione dei giudici di Palazzo Spada riapre uno scenario e restituisce qualche speranza ai tifosi. Il giudizio di merito è fissato al 25 agosto, ma i tempi sono strettissimi. Intanto spunta anche un'indagine della Guardia di Finanza. Sentiamo Luigi Di Lallo. Notizie dell'ultima ora riguardo il campo basso calcio. Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dei lupi assistiti dall'avvocato Cesare Di Cintio di sospendere la decisione del TAR che confermava la mancata ammissione del club in Lega Pro decisa in precedenza da FIGC e CONI. Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza in merito il 25 di agosto per la discussione del ricorso del team molisano. Da capire se a questo punto la Lega Pro procederà comunque alla presentazione dei calendari, così come da programma alle ore 12. L'organo di terza serie ha provveduto alla compilazione dei gironi da segnalare l'ingresso del Pescara nel raggruppamento C. Un atto assolutamente inaspettato e clamoroso che a questo punto potrebbe ritardare la possibilità di usufruire del lodo Petrucci. Il nostro auspicio è che il sindaco vada comunque per la sua strada cercando di salvaguardare almeno la Serie D nella piazza Rosso Blu. Il tutto quando si è alzato un polverone in casa Campobasso sarebbero almeno quattro le persone che orbitano attorno alla società sportiva Rosso Blu iscritte nel registro di indagati per reati di natura finanziaria. Le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza Locale sarebbero partite lo scorso autunno nel mirino. Delle fiamme gialle, spostamenti di denaro, società con sede all'estero e relativi bilanci. Attendiamo novità da sviluppare già a partire della giornata. Porte aperte al polo logistico di Amazon di San Salvo 460 dipendenti al lavoro. Grossa opportunità occupazionale per il Molise. Sentiamo Andrea Nasillo. Porte aperte al polo logistico Amazon di San Salvo parte la nuova avventura del colosso dell'e-commerce. 460 dipendenti già al lavoro. In Italia Amazon è ormai realtà consolidata. Investiti in tutta la penisola, quasi 9 miliardi di euro. Dal 2010 oltre 18.000 imprese italiane vendono i propri prodotti su Amazon che lungo il territorio nazionale ha ben 37 stazioni di consegna. Quello di San Salvo è uno dei 10 centri di distribuzione in Italia. Il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità dell'Abruzzo e dei vertici della nuova realtà industriale ai confini con il Molise. Ogni apertura di Amazon per noi è una festa, è un sogno. E soprattutto la cosa più interessante per noi è portare quello che abbiamo già in qualche modo sviluppato in modo così forte al nord, anche al centro-sud. quindi portando la velocità di servizio ai clienti anche alle regioni, soprattutto adriatiche ma in generale al sud e al centro dell'Italia. Abbiamo investito molto in questi 10 anni, raggiungendo oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato a cui se ne aggiungeranno altri 3.000 entro la fine dell'anno in circa 60 siti in tutto il paese, ha commentato Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica. L'80% dei dipendenti del centro Amazon di San Salvo, che diventeranno 1.000 entro 3 anni, vive nel raggio di 30 minuti dal nuovo centro di distribuzione. Una grossa opportunità occupazionale anche per il Molise. Il sito si trova al confine tra l'Abruzzo e il Molise, per cui chiaramente noi cerchiamo di attrarre tutti quelli che rientrano nel raggio di 20-30 minuti dal centro. Per cui il Molise è sicuramente interessato, io direi almeno al 50% rispetto alla posizione in cui ci troviamo. Emergenza viabilità in Alto Molise in arrivo dei fondi che la Regione ha dato alla provincia, ma ci sono anche novità per quanto riguarda la bretella della frana, per la frana di Castelpizzuto. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Viabilità in Alto Molise, l'emergenza è continua, per ora di riaprire il ponte Sente, che collega Agnone con l'Abruzzo non se ne parla. Occorre uno studio preliminare, un progetto e tanti soldi. Comunque per il momento occorre far subito fronte ad una ripresa autunnale, che si presenta problematica, perché il percorso alternativo, quello della strada provinciale Estonia, è dissestato e pericoloso, tale da non consentire il passaggio a normali pullman, ma solo a minibus. Per questo mettere l'Istonia in sicurezza è essenziale, perché centinaia di abruzzesi raggiungono ogni giorno Agnone per frequentare scuole, ospedale e uffici vari. Problema in via di soluzione, perché la Regione ha risposto all'appello lanciato dalla provincia di Sernia. Abbiamo ottenuto la concessione di 1.200.000 euro per il rifacimento dell'intero tratto provinciale della Istonia, che è centrale per l'Alto Molise. Insomma, siamo impegnati su tanti fronti per migliorare la viabilità, che significa sicurezza per i cittadini che vi transitano. Ma c'è anche un'altra emergenza, quella di Castelpizzuto. Il paesino alle porte di Sene ha tagliato fuori da più di un anno, dopo la frana che ha distrutto la strada provinciale. Come per il Sente, anche qui c'è un'alternativa, è quella della Bretella e anche qui la provincia sta intervenendo. Abbiamo asfaltato, dopo credo 20 anni, un tratto importante del centro di Longano e sappiamo quanto Longano risenta delle problematiche connesse al transito dei mezzi pesanti che vanno verso lo stabilimento della Castellina. Sempre per restare in tema Castelpizzuto, dopo un'intesa raggiunta qualche settimana fa in prefettura, d'accordo con il sindaco di Castelpizzuto, abbiamo provveduto ulteriormente a rinforzare con asfalto la famosa o famigerata Bretella, stiamo completando in questi giorni. Ovviamente lì la priorità resta sempre l'ottenimento del finanziamento, su questo continuiamo a premere con la Regione per avere la concessione formale. La Regione sta attendendo un decreto dalla Protezione Civile Nazionale in tal senso. Presentato il Bando Turismo e Cultura 2022-2023, sentiamo Anna Maria Di Matteo. Dalla 2018 ad oggi la Regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro, di cui 3 solo per quest'anno, per la valorizzazione e la promozione del turismo. Un progetto che va avanti e che già guarda al prossimo anno. In mattinata il Presidente della Regione Tome e l'Assessore alla Cultura Cotugno hanno fatto il punto nel corso di una conferenza stampa organizzata all'Exigil, illustrando anche i contenuti del Bando Turismo e Cultura 2022-2023. Dopo due anni di pandemia veramente è un grande piacere ripartire con il territorio. Oltre 300 manifestazioni su tutto il territorio regionale, da Venapro a Termoli, da Agnone a Larino, nessuno è escluso. Tutti quanti quelli che hanno partecipato con oltre 100 progetti sono stati tutti quanti all'altezza di una grande offerta turistica e culturale della nostra Regione. Oggi presentiamo, impropriamente detto, come dicevo prima, il cartellone, ma soprattutto facciamo un po' quel punto della situazione 2022, con un lancio anche del 2023, perché siamo anche pronti per il 2023. Questa è la grande novità di oggi, che noi prima di novembre siamo in condizione di presentare tutto il programma 2023, da gennaio a dicembre 2023, per promuovere una Regione che finalmente è su tutto il panorama nazionale e internazionale relativamente al turismo. Sono circa 7 milioni e 400 mila euro, abbiamo investito sin dal 2018, i risultati sono tangibili, diciamo che siamo soddisfatti, possiamo fare ancora meglio e ancora di più. Su che cosa state puntando in maniera particolare? Guardi, c'è un'idea che quest'anno si è concretizzata, che noi dobbiamo avere diversi segmenti di eventi, quelli culturali un po' più delit, dove ci vuole una educazione al teatro, alla musica di tipo diverso da un'educazione più popolare, e sono quelli che fanno capo a Poetica, per esempio, che porta avanti la Fondazione Molise Cultura. Poi abbiamo una fascia molto importante, che è quella dei festival, che non può essere confusa e trattata la stessa maniera del sostegno che diamo all'attività del folklore, all'attività delle sagre popolari. Quindi dobbiamo discernere questi eventi. Festa grande al porto di Termoli, con la tradizionale processione in mare per San Basso, il servizio di Andrea Nasillo. Il giorno della festa più attesa, il giorno della processione in mare per San Basso. Termolesi, ma non solo, anche tanti turisti, hanno accolto in porto la statua del patrono, che quest'anno è salita su un peschereccio nuovo, il Teresa Cannarsa. È una doppia emozione, a parte che è la prima volta che portiamo il santo, però è un'emozione che mia sorella è venuta a mancare da quattro anni, la barca è stata presa da poco, ha messo il nome della sorella, e uscire, mai, mai andare a portare il santo, perché lei ci teneva il santo, lei veniva su con l'altra barca, preparava, sì, qualcosa c'è. Entusiasmo, gioia e momento di rinascita per la comunità che ritrova nella sua espressione più tradizionale il senso dei festeggiamenti dopo oltre due anni difficili dovuti al Covid. È una festa che è nel nostro cuore, è la festa dei Termolesi, è il patrono dei pescatori, è la festa della città, e quindi accogliamo con soddisfazione e soprattutto con grande amore tutti i turisti che vogliono condividere la nostra tradizione e vivere una giornata serena nella nostra città. Un ritorno in noi stessi nella ripresa della normalità, ma anche un'occasione per accogliere con fiducia la presenza di Dio nella nostra vita personale e di comunità, ha detto il Vescovo Gianfranco De Luca. Sul San Pio sono saliti i rappresentanti delle istituzioni, sul nuovo Saturno la banda, per tanti la gioia di vivere la processione, per altri di vedere la lunga scia colorata di barche direttamente dal porto o dalla spiaggia. Di corsa per prendere la barca, sempre in ritardo. Bozzo a basso! Sicuramente questo evento è importantissimo per la città di Termoli e comunque anche per chi come me è fuori, lo sente dentro e quindi torna, prende i giorni di ferie o i giorni di riposo per tornare e fare la festa di San Basso. Finalmente dopo due anni di Covid e un periodo un po' buio, torniamo a fare festa. Come ti chiami? Diego Diego, sei salito sulla barca? Sì Com'è stata? È bello Ma è la prima volta o sei salito altre volte? No, è la prima E quindi è una bella emozione per San Basso? Sì Ci tornerai? Ovvio Viva San Basso! Viva San Basso! E a Frosolone la 44esima edizione del primo agosto un successo a partire dal rito della perdonanza fino alla sfilata dei carri allegorici e poi al concerto della band salentina alla bua. Valeria Migliore Successo è un discusso per la 44esima edizione del primo agosto di Frosolone che dopo due anni di pandemia si è riappropriato di uno degli eventi più sentiti. Dopo il tradizionale rito della perdonanza con la processione e le cosiddette passate la sfilata dei carri allegorici ha divertito e incantato il pubblico. I sei carri, rigorosamente costruiti a mano dai giovani frosolonesi hanno letteralmente messo in scena uno spaccato del borgo antico con i suoi usi e costumi. Se facci lì la minata l'anno passato se tu non ti vuoi ma come fa senza l'unità d'oro? Ma vai a te! Ma vai a te! Ma vai a me! 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 Soddisfatto il presidente della Proloco Michele Colavecchio. Sì, dopo due anni dovuti purtroppo alla nota pandemia quest'anno abbiamo ripreso la grande. Voglio fare veramente un ringraziamento a tutti i carristi questi giovani frosolonesi che hanno dato il massimo per far sì che questa manifestazione potesse ritornare quindi nel suo intero splendore. Poi spazio al buon cibo con la sagra di baccalà e peperoni preparati dall'Associazione Cuochi della Provincia di Sernia. Facciamo il classico piatto della tradizione di Fosolone baccalà e peperoni fritto in una pastella fatta di uova, farina e acqua. E infine tutti in piazza per ballare la pizzica con il concerto della band etno-popolare alla bua. Con questo ritmo è difficile rimanere fermi quindi si balla sempre ma voglio dire rispetto a tante altre situazioni dove si balla e basta molte persone stanno arrivando anche stasera qualcuno dalla provincia di Benevento altri dalla provincia di Foggia vedo il fan club alla bua dell'Abruzzo che praticamente vengono per ascoltare il gruppo non per ballare soltanto e basta. E tutto termina qui anche questa edizione di Sette Giorni di Cronaca grazie per averci seguito e arrivederci.